Si cita sempre più grave in Piemonte, dove non cadono piogge e neve dall'8 dicembre e la Regione ha chiesto urgentemente la convocazione di un osservatorio sulla crisi idrica. Ma preoccupa anche l'innevamento. Le scarse nevicate hanno ridotto progressivamente lo spessore del manto nevoso che si presenta ridotto del 50% rispetto allo standard. Nella nostra Regione, qualora la situazione non tendesse ad un'inversione, ci si attende un incremento delle problematiche gestionali che spazieranno dall'agricoltura al turismo. La Regione sta lavorando con grande attenzione a questo problema che colpisce molti settori della nostra vita e della nostra economia, afferma il presidente Alberto Cirio. Il Piemonte sta vivendo uno degli inverni più secchi degli ultimi 65 anni, il quarto peggiore dopo il 1989, il 1993 e il 2005, spiega Angelo Robotto, direttore generale di ARPA. A gennaio sono caduti 4,8 mm di pioggia a fronte di una media storica del mese di 46 mm. La situazione dunque è difficile e, viste le previsioni per i prossimi giorni, non sembra avere una risoluzione a breve termine. Intanto l'assessore regionale Marnati ha riunito una struttura di comando che ha deciso di convocare per il prossimo 8 febbraio due le riunioni, una alla mattina con tutte le province, alle quali sarà fornito un bollettino redatto da ARPA con l'aggiornamento in tempo reale della situazione, al pomeriggio un'altra riunione, questa volta tecnica, con i consorsi irrigui, organizzata di concerto con gli uffici competenti del settore agricoltura.